Quando leggo che il governo di Pinochet è al potere, scoppio di rabbia. Testimonianza di Mattio Rasetto, nato a Barge, frazione Gabbiola, classe 1912, contadino. La mia era una famiglia povera, cinque fratelli e una sorella, poca terra e pieni di debiti. Padre e madre ci dicevano, una volta era ancora peggio, noi ci nutrivamo di patate e castagne, voi mangiate già meglio, voi mangiate già il pane. Una volta era raro vedere qualcuno con una pagnotta di pane, se si vedeva uno che arrivava da Barge con una pagnotta di pane, si chiedeva, avete un malato in casa? Mio padre era tornato mal ridotto dalla guerra del 1915-18, era rimasto sotterrato tre volte dalle granate. Quando era al fronte, aveva fatto il voto di far costruire un pilone se si fosse salvato, ma quel pilone non l'ha poi mai fatto costruire, perché gli sono sempre mancati i soldi. A nove anni ero già da Garzone, da servo in campagna. Nel 1927 avevo 15 anni, ero Garzone a Santa Gustna di Cavour, in una cascina di 60 giornate, con 30 vacche. Lavoravo dal mattino alle 4 fino alla mezzanotte. Mi trattavano mica male, guadagnavo 2300 lire per tutto l'anno. Poi sono andato a lavorare a Scalenghe, vicino ad Airasca. Anche lì i padroni erano mica cattivi, erano solo un po' avari. Avevo sempre fame, una fame da lupo, il pane era misurato. Non osavo mai chiederne. Quando finivo di mangiare, avevo più fame di prima. A Scalenghe guadagnavo solo più mille lire l'anno, c'era la crisi. Poi sono tornato a lavorare nei ciabot, vicino a casa, alla gabbiola, da gusto, con i cumba. Lì stavo meglio che con i casinè, i proprietari di Cascine, della pianura. Nel 1950 sono andato a lavorare in Francia, a Brié, dietro al Monviso, come manovale muratore. Guadagnavo 75 franchi all'ora. C'erano molti algerini. Loro guadagnavano solo 70 franchi all'ora. Adesso sono qui, sulla collina di Barge, nel ciabot del professore. 7-8 le giornate di terra, l'alloggio, la stalla con due vacche. Se non fosse che il professore mi aiuta, non potrei vivere. Ho una piccola pensione di invalidità, 35.000 al mese. Il professore mi regala uno stipendio sulle 300.000 lire all'anno, non mi fa pagare l'affitto, le bestie sono mie. Così riesco a vivere. Vivo da solo. Come potevo sposarmi quando ero giovane? Ero senza soldi. Vivo da solo. Così le mie bestemmie nessuno ne ascolta. Sono un uomo libero. Mi piace tanto leggere. Leggo molto. Leggo l'unità. E qualche volta la stampa. E il sempre avanti. Ho seguito tutta la guerra del Vietnam. Seguo quanto sta succedendo nel Cile. Lo sport non mi interessa. Volto pagina. Che cosa ricordo del fascismo? Ricordo che nel 1922 mio padre e la gente dicevano Ma guarda. Hanno tirato fuori Mussolini. Andiamo male. Porco cane. Andiamo male. Io ero un bambino. Sentivo che si lamentavano del fascio. E sentivo che si chiedevano. Ma come avrà fatto quel Mussolini? Era poi solo un sergente. Avrà salvato qualche generale in guerra. Ma nei nostri posti non si parlava poi mica tanto di politica. Mio padre non era in grado di leggere tutto un giornale. Nel 1926 ero andato a San Grato di Agliasco. Sopra Paesana. Per la festa al santuario. Là un albergo aveva messo i banchetti e vendeva anche il vino. Sono arrivati i fascisti da Saluzzo. Erano la dozzina. Avevano i manganelli e la camicia nera. E in testa l'elmo. O quei berrettini con il fiocco. Hanno spaccato tutto. Rubavano le bottiglie di vino. E le rupevano per bere. Hanno stracciato una bandiera rossa. Poi l'hanno bruciata sul piazzale. Forse hanno anche dato l'olio di ricino al prete che era lì a dire la messa. Poi il fascismo è diventato la guerra. Prima l'Etiopia. Poi l'Egeo. Poi la Francia. Poi l'Albania. La Grecia. La Russia. Ma cosa voleva fare Mussolini? Gli Stati Uniti d'Europa? Ma fosse stata a casa sua? Avesse piuttosto concesso i passaporti a chi voleva andare all'estero invece di mandare la povera gente a morire in quelle guerre sbagliate? Lasciala vivere la gente. Che vada a guadagnarsi il pane per il mondo. E dopo lo sbandamento dell'8 settembre io ero su alla gabbiola. Come sentivo i cani che abbagliavano scappavo pur di non cadere nella trappola. I partigiani andavano e venivano. Non avevano una base fissa proprio perché la nostra montagna non si prestava. Non era adatta alla guerriglia. I partigiani erano dei nostri. I contadini avevano l'idea di tenere per i partigiani. I contadini li avrebbero invitati a cena i partigiani. Ma avevano paura dei tedeschi e dei fascisti. Avevano sempre paura che arrivassero gli altri. Io marciavo così. E tanti marciavano come me. Tanti erano amici dei partigiani. Ma le leggi, ma i bandi, dicevano di mai aiutare i partigiani. I tedeschi e i fascisti ammazzavano. Quanti innocenti hanno ammazzato. I contadini, tra loro, dicevano Una volta, quando c'era Giolitti, andava bene. Il nostro partito sarebbe quello di Giolitti. Un giorno gli aeroplani hanno buttato dei manifestini. Credo fossero americani o russi. Una facciata dei manifestini era scritta in un linguaggio che non capivo. E l'altra facciata era invece scritta in italiano. Ricordo ancora cosa c'era scritto. Italiani, passate questo manifestino alle truppe tedesche. I tedeschi hanno perduto la guerra per i sottoindicati motivi. Eccetera, eccetera. Allora ho capito e mi sono detto Non va più alla lunga che la guerra finisce. Distribuirei proprio volentieri questi manifestini. Ma se mi metto a fare il postino dei tedeschi Il 25 aprile lavoravo su a una meira in montagna. Sento tutte le campane che suonano a distesa. Lascio tutto là. Scendo di corsa a casa. Trovo gli amici. Tutti che piangono dalla contentezza. Ci ubriachiamo. L'indomani a Barge c'è un commissario che fa il comizio. Parla un po' a fatica perché ha un polmone solo. È circondato da un plotone dei suoi partigiani. In giro c'è ancora qualche tedesco sbandato. Ci sono le quattro bandiere che sventolano. Quella americana con tante stelle, quella russa con la falce e martello, quella inglese a strisce e quella italiana. La gente piange di gioia. Eh sì, l'avevamo vista brutta noi altri. Non potevi più dormire a casa. E sempre con la paura che i tedeschi e i fascisti ammazzassero e bruciassero. Io sono un ignorante, ma credo nella giustizia. I fascisti tedeschi hanno ucciso tanti di quegli innocenti. Con la liberazione è cambiato qualcosa, ma poco. In principio, con Ferruccio Parri, presidente del Consiglio, sembrava che andasse bene. Poi, con De Gasperi, ho capito che si tornava indietro. Quando leggo che il governo di Pinochet è al potere, mi indigno. Scoppio di rabbia. Mi dico, gli stati che sostengono Pinochet vogliono mantenere la guerra? Sì, sono iscritto alla Coltivatori Diretti, per forza. Ma ho sempre votato a sinistra. Voto PC. Oggi anche la Coltivatori Diretti dice che le leggi per l'agricoltura vanno male. Ho letto sul giornale della Coltivatori una lettera che mi ha fatto ridere. Era la lettera di un piccolo proprietario. Diceva così. Caro direttore, avevo fatto la domanda per ottenere un contributo di 500.000 lire. Vi ringrazio tanto perché l'ho ottenuto. Ma ho dovuto spendere 300.000 lire per le pratiche, per il mio notaio e geometra, eccetera, eccetera. Mi sono rimaste 200.000 lire. Per forza la campagna piccola va a perdere. Per forza la montagna diventerà deserta. I piccoli proprietari sopravvivono perché hanno i figli in fabbrica, all'Indesit, alla Fiat, perché hanno i figli che fanno i pendolari. I nostri prodotti sono disprezzati. L'anno scorso le castagne valevano 5.000 lire al quintale. Se te le regalano a raccoglierle, non ti salvi. La campagna va male, ma temo che anche le fabbriche, un giorno o l'altro, si troveranno in difficoltà. La nostra terra, la terra di noi piccoli, vale poco o niente. Ma la gente della città viene qui a comprare le baite. Non si sa mai. Domani che capiti qualche bisbiglio, magari una guerra civile. E' per questo motivo che la gente di città compra le baite di montagna.